Io apprendo che è la sua interpretazione nel corso di quattro anni trascorsi, ma io leggo l'articolo 79 al punto 7 mi sembra non interpretabile in modo difforme da quello che c'è scritto, cioè le modifiche agli emendamenti possono essere presentate fino al momento della votazione, cioè non è che ci si può arrampicare, quindi se il collega Mezzi ha un sub-emendamento da presentare lo può presentare, verrà discusso, votato, accolto o non accolto, come è giusto e normale che sia, non vedo come possa essere interpretato in modo difforme dalla possibilità di presentare un sub-emendamento, fermo restando che per quanto riguarda il mio gruppo non presenteremo sub-emendamenti, ma l'articolo è chiarissimo. L'articolo 79.7 Sarò abbastanza breve perché hanno già detto i colleghi, io voglio solo sottolineare che a nostro modesto parere questo emendamento va a dimezzare il potere del PTCP nel suo insieme, perché va di fatto a togliere delle prerogative che dovrebbero essere del PTCP, le va a ridurre perché va a dare l'opportunità ai comuni di andare a dire che quello che secondo il PTCP è una previsione prescrittiva di fatto non è perché è sub-udice di quella che è la volontà del singolo comune. Mi pare che è come dire che abbiamo lavorato in tutti questi mesi per poi votare, se votate questo emendamento andate a ridurre a nulla o quasi tutto il lavoro che è stato fatto. Io rimango veramente perplesso, mi auguravo che la modifica che proponeva il collega mezzi, che lo si voglia chiamare sub-emendamento o modifica, venisse presa in considerazione perché quantomeno andava a dare un senso al PTCP nel suo insieme, perché con questo emendamento per me abbiamo finito di lavorare, non ha più senso. Votateve. Grazie.